Sì, ma c'è un contenitore di cene, però offro di chi che sia. Mi ne raviare, ma ne aggara? Mi ne aggara molto di servizio, però da me come molto di barco. Chi potrebbe dare, signore? Sì, ma c'è un contenitore di cene, ma c'è un contenitore di cene. Non c'è un contenitore di cene. Questo è facile da massacrarre il vento e il fogo sovocato e il fogo dell'arco è quello che vuole. Quanto tempo sta dura per me vuoi ocorso, per esempio? Dependendo da quale situazione è da. Prendi a bobo tommo un giorno o una notte. Prendi a bobo tommo meno. Sei. Prendi che quando il mostro sarà avuto il suo lavoro, perché una superficie è riuscita e ci sarà al suo lavoro. E' questo scegliere sempre. E' questo punto è il modo sicuro che era l'arco. C'è un lavoro che si trattava in buonità. Non, non ci siamo buoni, ma un lavoro che si trattava sui, e non c'è? E' un lavoro in cui ti è fatiga? in motore? No, in Niagara non stava in motore, non stava in motore, non stava in motore. Mi sapevo in una banda, mi sapevo un po' di Niagara, però mi sapevo da conoscere una famiglia da me, da conoscere una famiglia macchina. Quanto tempo mi era a navegar con Niagara? Grazie per la esperienza, per conto di Niagara. No, stava in motore, mi stava in motore. Mi stava in motore conoscere una macchina. Mi stava in motore, mi stava in motore, mi stava in motore. Mi stava in motore, mi stava in motore per me. Ma fino a ultime ore, in motore, no so, mo stavamo un motore e metano del palco a facWell. Sì, per me è rua, di buoneggo, non so, una volta di buoneggo, parrua, di buoneggo, niente. Ok, di niente, ora è il mio servizio, c'è una presentazione, mi ricorda, penso che non devo fare bene a Vad accadere con una famiglia, di niente. FAT ROLë